ciao a tutti ragazzi eccomi come al solito non riemergere la nebbia perché non l'ho fatto sto usando questo sistema della live fondamentalmente non mi interessa degli spettatori ma ho scoperto pensate quanto sto dietro via certe cose che se faccio la live poi tranquillamente youtube me lo salva e me lo pubblica quindi invece di girare il video nel resoconto poi quello che è stato della mia esperienza al vabitali lo mando in live poi verrà caricato in automatico fantastico niente ho letto un pochino di commenti quella chi è piaciuto a chi non è piaciuto io personalmente era la mia prima volta il vabitali quindi comunque non posso fare termini di paragone ripeto perché ho letto in tantissimi che avevano fatto il paragone con le edizioni precedenti era meglio era peggio io non posso fare questo termine sicuramente di paragone quello che posso fare è parlarvi della mia di esperienza che è stata stra positiva probabilmente ripeto non lo so come erano gli anni precedenti a me è piaciuta tantissimo ragazzi tantissimi liquidi da provare poi lo sapete la cosa che mi è piaciuta più di tutti che sostanzialmente si è vero la tecnologia ci avvicina perché sicuramente il social tutti questi mezzi qui ci avvicinano un pochino no però poi si perde un po quello che è il contatto umano quindi vedere dal vivo conoscere scambiare quattro chiacchiere di persona faccia a faccia con i produttori di liquidi con i modder con delle persone che magari seguivo sui social e tutto quanto è stata veramente un'esperienza fantastica e mi è piaciuto veramente tanto questa è la prima cosa la dimensione umana un po respirato veramente un'area di community cioè un senso di gruppo non lo so sarà un po romantico però mi è piaciuto parecchio poi ripeto quello che era stato anche nelle precedenti mie esperienze nella fiera nello spot di roma in quello che era stato a napoli e comunque la possibilità di provare tantissimi liquidi e acquistare magari le cose che poi ci piacciono secondo me è un valore aggiunto della fiera cosa altro i prezzi io sinceramente ho trovato prezzi ottimi io sono riuscito a fare tanti acquisti adesso ve li faccio vedere che ho comprato bene ragazzi cosa di ho comprato mi sono regalato mi sono regalato anche delle belle cose questa è la prima questa box bf che però si allontana un po dal discorso che è quello delle delle box a lamella il proprio di questa ne parliamo ragazzi sicuramente in un video dedicato perché merita merita veramente tanto e spinge anche veramente tanto questo è stato probabilmente l'acquisto più importante me ne avevano parlato bene ora sicuramente voglio provarla per qualche giorno ci smanetto un po su poi sicuramente ne parlerò in un video dedicato poi cos'altro dal punto di vista hardware così non ho preso tanto hardware è più che altro preso liquidi questo l'acquisto più importante un'altra cosa che mi era stata consigliata ma dove stavi leo t'ho cercato sono passato da viperante porco gioia io stavo sabato grande era più un matto un pazzo scatenato si butta la grande numero uno veramente però io sabato non t'ho visto sono passato da viperante e non mi ha detto che non sapeva neanche dove stavi stava scoppiato pure ciro coraccio lì stava bello presa lo stand però non mancherà occasione siamo vicini e speriamo di incontrarci presto e cosa stavo dicendo quindi hardware sinceramente ho preso poco mi sono regalato questa bella boxettina poi mi era stato consigliato questo perché aveva avuto un problema con l'atly cioè l'atly problemi non ne da però personalmente a parte adesso non so neanche dove ho il cap eccolo qui il mio di problema era il tip che era troppo piccolo non facciamo battute ragazzi stupide comunque sì secondo me in bocca però certo quasi dico in bocca era troppo piccolo proprio scatenatevi però questo era il mio problema e quindi mi era stato consigliato l'acquisto di questo cap che è prodotto da fish mode beh ragazzi ha trasformato l'atly non che non mi piacesse cioè non diciamo stronzate perché io adoro l'atly però ci mancava qualcosina beh ho preso questo cap in ultim ragazzi dov'è che è grosso mi piace e devo dire che l'ha trasformato l'ha trasformato se prima c'è mi faceva impazzire che mi piace a me mi faceva poco impazzire l'atly cioè adesso è perfetto è veramente perfetto e lo sto provando con dei fili singoli perché purtroppo il buon shiro isaia il maestro il guru delle coil c'era soltanto domenica io sono stato soltanto sabato e quindi ho fatto un po di fatica perché volevo comprarle da altri forse ho sbagliato almeno potevo provare altre cose però adesso mi sono affezionato a shiro e isaia gli volevo le sue di coil volevo prendere delle alien apposta per l'atly comunque non c'era poi ha avuto dei problemi anche lui personali di lavoro quindi adesso probabilmente da giugno ricomincerà a prendere ordine ci voglio assolutamente provare delle alien fatte apposta per l'atly comunque questo cap è speciale ragazzi eccezionale io non voglio fare i marchetti anche perché non le faccio non mi si fila nessuno è giusto che sia così quindi dico quello che penso secondo me quello di fish mode è un ottimo lavoro mi è piaciuto veramente tanto costa relativamente poco quindi se avete l'atly e volete provarlo in una versione leggermente più larga prendete questo cap che è splendido 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 e ultima cosa che ho preso di hardware dato che mi sono regalato questa boxettina bf ho preso il pin bf per il cosmo un atomizzatore che a me piace tantissimo mi ci trovo veramente veramente bene dagli col veramente regà sempre dagli veramente e poi ho preso tanti liquidi uno è quello che sto svapando qui sull'atly cioè regà mi ho fatto veramente sbroccare io non era amante dei fruttati cioè chi mi segue quei pochi sceni che mi seguono lo sanno benissimo io non sono amante di fruttati però da quando ho scoperto questi fruttati mentolati cioè li apprezzo tantissimo tantissimo perché spezzano un po la dolcezza c'è quel dietro fresco e mi piacciono tantissimo volevo dire veramente tanto ho detto tantissimo e orni mango ragazzi mamma mia che rota rota grave cioè volevo provare assolutamente un liquido al mango ho provato il beba e non lo so come si dice della fuck jerry juice mi è piaciuto ma non l'ho preso il mango era meno dolce però non c'era la parte fresca mentolata quindi ho provato questo orni mango che avevo avuto occasione una volta di drippare no veramente Gonzalo droga droga pura droga vera droga porca puttana non me l'aspettavo l'avevo provato una volta al volo era passato un ragazzo ce l'aveva su mi ha fatto fare una trippata l'ho assaggiato e avevo capito che aveva un potenziale questo liquido quindi poi quando l'ho trovato in fiera mamma mia ragazzi cioè sa di mango c'è un mango dolce maturo impressionante poi di tutti i liquidi sicuramente farò una recensione adesso facciamo una carrellata di quello che ho preso ma orni mango cioè spacca spacca veramente tanto tanta roba poi sempre in tema di fruttati mentolati ero incuriosito da questi malesiani ho i miei dubbi perché dico ma Malesia quale saranno i requisiti igienico sanitari per fare i liquidi io non lo so ma in carriera vi posso garantire che ho assunto di peggio ho fatto un po' di tutto quindi adesso queste due bosce me le svapo di malesiani senza troppa paura e sempre nell'ambito del mentolato vi dico ragazzi una cosa spaventosa io neanche le avevo mai visti confezioni fantastiche si chiamano bangsa one cioè questo è mela uva e mentolo cioè spaziale c'è una cosa buonissima buonissima veramente tanta roba poi adesso con l'arrivo del caldo me li sparo più che volentieri sinceramente e quest'altro sempre della bangsa one mela fragola e mentolo ma hanno un mentolato ragazzi che dopo che buttate fuori e poi vi andate a fare così vi apre completamente cioè qui già fa un callo che voti che fa cioè già se campa più comunque vabbè lo ridico per l'ennesima volta odio il caldo quindi fruttari mentolati ne abbiamo parlato poi ovviamente ci volevano un pochino di cremosi che io adoro sono andato a colpo sicurissimo ne ho già tantissimo eh però l'ho trovato ad un prezzo non dico che assai veramente tutte piene eh che mi piace il mister merino conosco il mister merino tutte piene poi varie confezioni vuote e quella io di questo non ho sbavato troppo forse c'ha solo un grande difetto ragazzi che dopo un po' cioè ti asfalta veramente la lingua quindi ogni tanto mi prendo una pausa ne sbavo un po' a dementolato e via e poi che cosa ho preso? vabbè quindi il mister merino ne abbiamo parlato poi il prezzo c'è ne è strepitoso del mister merino eh un altro cremoso al limone che mi fa impazzire è nell'Olimpo insieme al mister merino e al K-Lime niente non ci siamo beccati Massime ma pure il buon Francesco Variale ma che fine hai fatto Francesco? che fine hai fatto Francesco? ero sicuro che se beccavamo che mi avresti iscritto niente comunque dinner lady lemon tart mamma mia mi fa sbroccare sto liquido mi fa proprio sbroccare mi fa uscire di testa quindi l'ho preso ottimo il prezzo questo ne prendevi 30 ml 15 ne prendevi due 60 ml a 20 euro 60 ml 20 euro ci si può pure stare no? ci si può stare? sì che ci si può stare non ho trovato però il K-Lime sono riuscito a farmi regalare un campioncino da quel cristone della Vapes ma io il 120 non l'ho trovato cioè mi ha regalato un campioncino se non avrebbe preso il 120 perché lo sapete secondo me la santissima trinità dei cremosi al limone sono mister meringhe dinner lady lemon tart e K-Lime cookie Vapes però 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 mi avevano parlato di questo liquido che sinceramente io avevo anche cercato online ragazzi però non ero riuscito a trovare perché si trova su pochissimi siti veramente eh e era ama the manattan project l'empire che è questo K-Lime cookie italian style ora io ci ho schiaffato la basetta con nicotina l'ho agitata adesso gli do una giornatina così lo lascio così a riposare tanto di liquidi ne ho tanti da svapare e lo voglio provare perché qualcuno più di qualcuno me ne aveva parlato bene sapete che sono i miei preferiti cremosi al limone quindi volevo provarlo poi ho sentito parlare di uno che mi è è sfuggito connessione debole quindi non so se si riesce a vedere comunque comunque abbiamo detto dell'empire poi altra cosa molto interessante molto molto interessante è aver trovato una boccia di quindi VCT vecchia scuola già nicotinizzato 60 ml 20 euro porca troia quindi ragazzi io i prezzi li ho trovati sono è vero che qualcuno si doveva per forza neanche avrebbe potuto e tutto quanto però che ti devo fare cioè VCT reserve questo ce lo teniamo per momenti un po' più particolari poi 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 sapete che dopo i cremosi al limone sicuramente i fragolosi mi piacciono tantissimo quindi ho provato il milk della black che è questo frullato alla fragola porca puttana buono no vabbè raga giallo fa veramente paura fa paura 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 poi 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 ah poi ho preso manca una busta adesso io spero che sia rimasta nello zainetto di un amico che era con me perché avevo preso delle cose di azad spero vivamente che sia rimasta nello zainetto ma non lo so ci dobbiamo sentire lui aveva da fare ieri oggi era fuori quindi non lo so poi ci sentiamo ma lo sai che forse in fiera l'ho provato possibile che c'era anche la versione deluxe che dir si voglia non lo so parte che dopo un po ragazzi mo obiettivamente ma non è che ci si capisce troppo perché per quanto io avessi i miei di drippere drippa acqua drippa lana certa diventa come vanno in profumeria senti in profumo due tre poi il naso svalvola non ricordo forse se l'ho assaggiato però non sei il primo carlo che me ne parla quindi sicuramente sarà uno dei miei prossimi acquisti sicuramente poi che cosa ho preso ripeto ho preso delle cose di azad gorosissime per le mie serate belle spinte spero che lo provo sicuramente lo provo sicuramente lo provo se mi dici così perché dopo i cremosi al limone quelli alla fragola mi piacciono parecchio ripeto delle cose di azad ho preso degli aromi concentrate ho preso anche altre chicche devo verificare che fine hanno fatto queste cose perché poi stavano sfornati ne siamo fatti una giornata siamo partiti da roma e tornati in serata che siamo scoppiati quindi vedremo vedremo il resto che dirvi ragazzi ecco questo era un po la panoramica delle cose che ho preso io mi sono divertito io mi sono proprio divertito ripeto la cosa che mi è piaciuta di più la il fatto di parlare con le persone faccia a faccia respirare un clima positivo a mio avviso che vedevo lì poi per carità potarsi che chi è stato gli altri anni hanno dato delle cose che non andavano a me personalmente un'esperienza che mi è piaciuta rifarei anche domani sinceramente però ci tocca aspettare un anno speriamo che data che dato che sta andando molto bene questo settore io mi auguro che non si fermi più mi auguro che sto sentendo parlare di di situazioni particolari di degredi emendamenti e bla 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 io spero che veramente non ci rompano i coglioni perché però facciamo gruppo stiamo uniti voi ricordate morandi regà saremo non dico tu stronzate quell'edizione saremo con morandi cioè io non è che ho visto tutto mi ricordo sta cosa di morandi cioè stiamo uniti stiamo uniti stiamo uniti perché ha tutto il rispetto per morandi comunque sì stiamo uniti e facciamo veramente gruppo perché così qualsiasi cosa succeda almeno possiamo andare non dica a fare scontri ci mancherebbe però il bocchi il movimento sia forte sia presente insomma che muo i libri si possono vendere solo in tabaccheria cioè rispetto ai lavori tutti e una stronzata clamorosa cioè clamorosa va bene speriamo che questo non avvenga se se ne parlerà speriamo di far fronte comune un po tutti quanti però ripeto esperienza stra positiva spero perché poi mi perdo come c'è di stronzate che ci risia di ottobre a roma dove si era molto più piccolo quindi chi si è lamentato della dimensione della fiera di verona non venga a roma perché comunque era una cosa tipo al giardino di casa cioè molto figo all'aperto si camminava c'era spazio stava bene a roma si stava bene a roma si sta sempre bene cogliete l'occasione per chi vuole se farà una matrice il trittico delle meraviglie carbonara matriciana e cacepepe niente qui continua a fare connessione pessima non so se si riesce a vedere se c'è qualche pazzo che mi sta ascoltando e mi scrive se sta laggando oppure se va e viene quello che sta succedendo perché lampeggia un connessione pessima probabilmente no e non credo